Lato Florene Plus è un integratore alimentare in flaconcini a base di fermenti lattici vivi ad azione probiotica. È indicato in caso di disturbi intestinali e squilibrio della flora batterica che possono essere causati da cattive abitudini alimentari, stress, trattamenti farmacologici, intolleranze e celiachia. Un flaconcino apporta vitamine del gruppo B e zinco per rafforzare le difese immunitarie e una miscella di microrganismi tipizzati per il ripristino della flora batterica intestinale quali Lactobacillus acidofilus LA5, Bifidobacterium BB12, Lactobacillus paracase ICRL431 e Bacillus coagulans BC513. Non contiene né glutine né lattosio. Come si assume? Premere energicamente il tappo con il pollice per far scendere il contenuto all'interno del flaconcino e agitare bene prima di bere. Assumere uno o due flaconcini al giorno lontano dai pasti.